Per fare una torta al cioccolato, preriscalda il forno a 180 gradi centigradi e ungi il fondo e i lati di tre tortiere dal diametro di 22 centimetri usando il burro. In una ciotola grande, aggiungi 400 grammi di farina per tutti gli usi, 600 grammi di zucchero e 150 grammi di cacao in polvere. Incorpora un cucchiaio di bicarbonato di sodio, un cucchiaino e mezzo di lievito e un cucchiaino e mezzo di sale. Sbatti gli ingredienti secchi. Ora, versa 4 uova e 350 millilitri di latticello. Quindi, aggiungi 350 millilitri di acqua calda. E 120 millilitri di olio vegetale. Mescola il tutto con uno sbattitore elettrico fino ad amalgamare appena gli ingredienti. Non mescolare troppo l'impasto, altrimenti la consistenza della torta potrebbe risultare dura o gommosa. Distribuisci l'impasto in modo uniforme tra le tre teglie unte. E cuoci le torte per 30-35 minuti. Lasciale raffreddare per 10 minuti. Poi rimuovile dalle tortiere. Infine, quando sono completamente fredde, impilale inserendo uno strato di glassa al cioccolato tra una torta e l'altra. Usa infine la glassa per coprire i lati e la parte superiore.